il giudicone sta lì in acquato i cani stanno in là perché anche i cani ascoltano alle volte ci sono anche i cani che cantano i cani brava ciao hai passato bene sabato e domenica? si sono stato da mia nonna chi è tua nonna? che cos'è? donna maria una cagnona bellissima bene bene e Sosi invece che è dolcissima si lei è innamorata di Bill Clinton che ormai si sa si e poi è nata una bambina bellissima si chiama Francesca Preta se parla un applauso ah una bambina in Italia che si chiama Francesca Preta si tanti auguri è un'amica di Sosi ecco è bella anche io ho un cane si chiama Briciola anche lei ha un cane che si chiama? Briciola Briciola che razza è? è un incrocio tra una mosca e un cane è bello che ha mandato il bacio al cane penso il cane alla casa wow non è cambiato l'abbia visto cosa canta? canta un brano di Mogol Battisti che il titolo è un po' drammatico però poi la canzone è divertente Il tempo di morire ah una canzone mitica di Lucio Battisti prego grazie Antonella molto cicletta 10 HP tutta cromata è tua semplice sì mi costa una vita per niente la darei ma ho il cuore malato e so che guarirei non dire no non dire no non dire no non dire no Non so che ami un'altra, ma che ci posso fare, io sono disperata, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare. Stanno adesso, sì, mi non so stesso di morire, tra le tue braccia così, domani puoi dimenticare, domani, adesso posso dimmi di sì, adesso dimmi di sì, adesso dimmi di sì. Grazie. Adesso c'è il giudizio appesissimo. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo.